Ben ritrovati gentili telespettatori per il notiziario del Veneto orientale in prima pagina un servizio da Portogruaro, una vicenda abbastanza triste, gli ammazza il figlio in un incidente e poi lo denuncia, vediamo di cosa si tratta. Non bastava quella folle corsa e lo schianto che ha stroncato ad appena 23 anni la vita dell'incolpevole Marco Rizzetto, non bastavano i sotterfugi, le pistaggi seguiti dalla tragedia secondo appunto i familiari del Rizzetto che potrebbero avere anche reso vane il residuo e speranza di salvare il giovane di Portogruaro. Rosanna Tabino, la 45enne di Ronchis che ha provocato quell'incidente, ha avuto l'ardire di denunciare il padre della vittima Giorgio Rizzetto che si sta battendo con tenacia per ottenere verità e giustizia. Con relativa sorpresa, conoscendo il personaggio, fanno sapere in un comunicato i familiari, il papà si è ritrovato iscritto in un registro degli indagati presso la procura della Repubblica di Udine, a seguito della denuncia presentata dalla Tabino, con procedimento affidato al pubblico ministero Claudia Danelon. L'ipotesi di reato per la quale si procede è di minacce. Che cosa esattamente la signora in Puterizzetto tuttavia ad ora non è data a conoscere, è coperto infatti dal segreto istruttorio, si sa solo che si riferirebbe a fatti avvenuti lo scorso aprile. Non so davvero che cosa si sia inventata ancora, ha commentato invece il papà del giovane. Il caso è noto. Marco Rizzetto, la sera del 2 maggio del 2014, stava provando la sua forfiesta nella zona industriale dell'Eastgate Park, tra Fussate di Porto Uruare e Porto Uruaro e procedeva per la sua strada con diritto di precedenza, quando fu travolto dal Volkswagen Passat che non aveva regolato, appunto, non si era fermata allo stop. A guidarla, Rosanna Tabino, che si era fermata con un amico, Daniele Colauto 56N, anche lui di Ronchis, all'epoca di fatti consigliere comunale, proprio nella zona. La conducente aveva ribadito che la sua manovra era perché aveva perso la testa, forse inseguita da un'altra vettura, ma i familiari del ragazzo stanno ancora aspettando, che dica la verità, su quella terza macchina su cui la guidasse. Tutto questo clamore, tuttavia, evidentemente non è gradito a quanto pare dei responsabili della tragedia, fanno sapere gli stessi familiari. Queste persone vorrebbero che questa vicenda scendesse in un silenzio tombale, ma nella tomba c'è mio figlio, io non mi fermerò finché non sarà chiarita una volta per tutte come sono andati i fatti di quella sera e non avrò ottenuto giustizia per mio figlio. Io l'ho giurata al capezzale della sua bara, ribadisce Giorgio Rizzetto e aggiunge, con amara ironia, violare l'articolo 612 del codice pinale. Questo sì è un reato gravissimo al confronto, la morte di mio figlio con tutte le omissioni e i depistaggi che ne sono seguiti per non parlare delle lacune, delle indagini e niente. Sono io il colpevole, non chi salta gli stop e uccide, non chi abbandona un ragazzo al suo destino, peggio di una bestia. Queste persone non devono neanche essere indagate, per noi genitori di Marco è inaudito e incomprensibile che con l'auto rimasto inleso venga condannato per omissioni di soccorso solo nei confronti dell'amica. Che i due che gli hanno ammazzato il figlio non devono rispondere di questo reato, anzi, abbiano anche la baldanza e la sfrontatezza di denunciarmi. A parti invertite, loro ci avrebbero già messo al muro. Di fronte a questa nostra giustizia che è emanata come padre, non dovrai forse invocare la giustizia divina? Si chiede ancora lo stesso Rizzetto. Andiamo adesso ad Oderso. Sono morti alcuni alberi piantati di recente alla stazione ferroviaria, messa a dimora lungo via Riva Monticano. Sembra non ci sia proprio nulla da fare, l'estate sta terminando e non ha giovato a queste piante messa a dimora di recente dal comune con l'intento di portare ombra, frescura e bellezza. Ad accorgersi che nei paraggi della stazione gli alberi stavano morendo sono stati alcuni pendolari. Gli abbiamo dato tempo tutta l'estate, commentano, ma sembra che non ci sia proprio niente da fare. I cinque nuovi alberi messi a dimora lungo la riva del fiume Monticano da subito avevano sollevato perplessità in alcuni opitergini perché erano piante di dimensioni oramai grandi ed erano sorti dubbi in proposito circa la loro capacità di attecchimento ed adattamento. Quattro non ce l'hanno fatto, un quinto invece si è rinsecchito. Diverso invece il discorso per i due tigli di Viale Frassinetti. Sentite, piante decennali che godevano di buona salute e che all'improvviso hanno manifestato segnali di grave sofferenza. Tanto che il Comune è intervenuto, ha fatto svolgere delle analisi da un esperto. Il verdetto è stato sorprendente, le due piante sono state avvelenate. Resta il mistero sul movente, chi può volere la morte di un albero? Sul caso il Comune ha inoltrato ad ogni modo una denuncia contro i gnoti, essendo stato danneggiato il patrimonio alborio cittadino. E adesso con il prossimo servizio andiamo a IESOL, abbiamo una intervista a Rizzante. Vediamo. Alessandro Rizzante, Presidente dell'Associazione Isolane Albergatori. Dalle vostre analisi che due settimane di settembre sono state, c'era molta attesa anche perché grandi eventi, bel tempo, grandi richieste, le previsioni erano buone, poi com'è andata? E' andata secondo quelle che erano le nostre indicazioni. Credo che alla fine, con gli ultimi 15 giorni di settembre, abbiamo recuperato quelle perdite che avevamo all'inizio stagione per causa del maltempo di tante altre concause che non erano certamente favorevoli a una stagione che doveva essere piena di iniziative. Lei l'aveva detto, ricordo, nell'intervista realizzata ancora a inizio luglio che IESOL doveva essere ottimista perché mantiene ancora una grande attrazione. Sì, l'appel di IESOL non è venuto meno, anzi forse si è incrementato un po' grazie alle situazioni internazionali, ma nello stesso tempo credo che abbiamo recuperato una clientela che da tempo non veniva a IESOL. E il sole, il tempo, la professionalità anche dei nostri imprenditori ha costruito questo percorso di recupero. Presenze molto positive, ma dal punto di vista economico? Forse, ecco, lì è il punto forse più da analizzare. Io credo che se anche dovessimo avere qualche presenza in meno in termini numerici, siamo riusciti a recuperare in termini economici. Grazie a un sistema, diciamo, ormai di revenue sui prezzi che nel momento in cui c'è la grande richiesta il prezzo può salire relativamente. Ecco, i grandi eventi magari hanno aiutato assieme alla professionalità naturalmente e al brand che ha sempre molto appeal. Qualcuno dice che forse le manifestazioni dovrebbero essere diluite nel tempo. Sai, col senno di poi si può dire ciò che si vuole. Noi sappiamo solo che questi dieci giorni, i primi dodici giorni di settembre in cui erano concentrate molte manifestazioni, avevamo quasi il sold out a IESOL, che non era mai successo. Poi alla fine un'organizzazione, magari un po' più diluita nel tempo, sicuramente è pensabile, ma nello stesso tempo dobbiamo fare una programmazione che riguardi i grandi eventi che sono dedicati poi al grande pubblico. Non è che ricevi il pubblico perché abbiamo il grande... No, facciamo il grande evento, il pubblico viene e in quel caso dovremo mettere il tempo e il periodo in cui farli. Sappiamo che come associazione, assieme alle altre categorie, siete già in programmazione con il Consorzio di Imprese Turistiche per il 2017. Cosa deve fare IESOL di più per essere sempre, diciamo così, sulla cresta dell'onda? Innanzitutto essere presenti in quei mercati che oggi ci hanno gratificato della loro presenza. Penso all'Austria, a Germania, che sono tradizionalmente i nostri ospiti, ma nello stesso tempo nelle fiere internazionali anche che riguardano l'est europeo. Alla fine poi della giostra non è che possiamo pensare noi di sapere le cose in maniera diretta. Credo che valga la pena di verificare poi le statistiche e le provenienze dei nostri ospiti, che siamo in ritardo poi per questo, ma nello stesso tempo poi creare le condizioni di essere presenti in queste attività. Ecco, nel bilancio abbiamo visto una buona presenza, un ritorno del turista dell'est. Che potenzialità, anche dal punto di vista economico, può dare a IESOL questo tipo di clientela? È un tipo di mercato cui credere? È un mercato su cui puntare, non su cui credere, perché possono essere veramente quegli ospiti che nella location di IESOL posizionata come è, hanno la caratteristica di essere la spiaggia delle loro aree. Poi alla fine sappiamo che siamo nell'ambito dell'Adriatico, dobbiamo stare molto attenti alla concorrenza della Croazia, dobbiamo stare molto attenti alla concorrenza della Slovenia, che si stanno sviluppando in maniera molto forte. Quindi è una sfida ancora una volta, come sempre nelle imprese c'è sempre la sfida, c'è la concorrenza, ma su quei mercati sicuramente possiamo puntare molto. Bene, avevamo dato già notizia, si chiama Notte Smeraldo, ed è la nuova iniziativa voluta ed organizzata dall'ASCOM in collaborazione con l'amministrazione comunale, proposta dagli stessi esercenti del centro cittadino dopo il grande successo della Notte Bianca. delle meraviglie. Questa si terrà sabato 17 settembre a partire dalle ore 20 e 30. È stata una richiesta fatta dagli esercenti, il che ci lusinga e ci gradifica, riferisce il presidente Angelo Faloppa, perché va a premiare il lavoro svolto da tutti per realizzare al meglio questa iniziativa. Questa è la testimonianza tangibile che il centro ed in generale la città è ancora molto ricettivo, che la gente ha voglia di riviverlo e con esso anche tutte le attività che qui si trovano. È stato bello vedere il centro della città così frequentato durante la Notte Bianca, delle meraviglie e anche così animato. È stato questo il commento del delegato comunale ASCOM, Luigi Fontanello. Terminata l'estate, con la gente rientrata in città, di sicuro avremo nuovamente vie e piazze riempite e negozi frequentati. La Notte Smeraldo, come abbiamo detto, si terrà domani sabato. Parliamo ora di lavoro e andiamo nel Veneto orientale. In un solo giorno deliberate 25 assunzioni all'Asno 10. Vediamo. Prosegue a Piero Regime l'organizzazione della sanità nel Veneto orientale, tra potenziamenti di organico, la copertura di assenze prolungate o di posti vacanti. In un solo giorno la direzione strategica della US10, coordinata dal direttore generale Carlo Bramezza, ha deliberato 25 assunzioni di personale da collocare nelle varie unità operative dell'azienda sanitaria. In primis, il semaforo verde si è acceso per 21 infermieri reclutati per un minimo di 8 mesi attraverso avviso pubblico che si è svolto la scorsa primavera al Palarex di Jesolo. Si tratta di assunzioni a tempo determinato, con la possibilità di proroga, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per assunzioni definitive. Dei 21 reclutati, 5 infermieri verranno destinati a potenziare la pianta organica aziendale, mentre 16 verranno collocati in posti vacanti e in sostituzione di assenze prolungate. Sono stati inoltre assunti, con contratto a tempo indeterminato, 4 operatori sociosanitari, di cui 2 per la copertura di posti vacanti e 2 per il potenziamento della pianta organica. Sono assunzioni autorizzate dalla Regione Veneto e rendono l'idea delle dimensioni di questa azienda, che con i propri circa 2.500 dipendenti si conferma, in termini occupazionali, e non solo la più grande e importante del Veneto orientale, puntualizza il Direttore Generale Carlo Bramezza. Parte del personale sarà reclutata con un contratto a termine, in attesa che vengano perfezionati i concorsi volti all'assunzione definitiva. In ogni caso, continua il Direttore Generale della US10, si è provveduto a fornire preziosi posti di lavoro alla cittadinanza e allo stesso tempo queste deliberazioni sono per l'azienda, per la cittadinanza stessa, un segnale tangibile dell'attuale costante miglioramento dei servizi erogati, sia attraverso la copertura di assenze improvvise e prolungate del personale in pianta stabile e sia con l'attuazione di potenziamenti di organico. Andiamo adesso nel Comune Rivalemene per parlare di avviabilità. Martedì 20 settembre avranno inizio, salvo condizioni meteorologiche avverse, i lavori per la realizzazione della rotatoria di Lugugnana tra la strada provinciale 42 via Fausta e la strada provinciale 70 via Agna, via Chiesa. I lavori avranno una durata di circa sette giorni. Per alcuni mesi la segnaletica orizzontale in corrispondenza dell'anello centrale sarà di colore giallo come previsto dalla normativa. Le cordonate lungo via Fausta, lato direzione San Michele a tagliamento, necessarie per evitare la sosta in corrispondenza dell'emissione dell'uscita della rotonda, saranno in gomma per rendere possibili eventuali aggiustamenti che si potrebbero rendere necessari. La nuova rotatoria permetterà una maggiore scorrevolezza del traffico che soprattutto nei mesi estivi diventa intenso lungo le due strade provinciali e una più sicura frizione dello spazio stradale da parte degli automobilisti con invito al rallentamento della velocità. E torniamo a San Donà di Piave. Vogliamo la moschea. 400 bengalesi cercano un immobile per realizzarla. Vediamo. Un centro culturale e religioso per musulmani bengalesi in centro a San Donà. Il progetto è promosso dalla comunità bengalese che solo a San Donà di Piave conta oltre 400 persone, suddivise in 279 uomini e 170 donne. I bengalesi, da qualche mese, sono alla ricerca di un edificio di circa 200-300 metri quadrati, oltre a uno spazio esterno con giardino da adibire a centro culturale e di preghiera, il più possibile vicino al centro urbano. Ci stiamo lavorando da due anni, ha confermato rappresentante della comunità asiatica. Abbiamo creato un comitato composto dalla cinquantina di persone del San Donatese e se possibile siamo disposti ad acquistare l'immobile oppure affittarlo purché sia abbastanza ampio. Molti bengalesi della zona hanno contribuito per accogliere fondi destinati a questa iniziativa. Abbiamo già fatto sopralluoghi in tre diverse abitazioni da ristrutturare, ma non rispondevano alle nostre esigenze. Si trattava di edifici abbastanza vecchi e troppo distanti dal centro. Il rischio è che lo spazio in centro città violi il divieto imposto alla legge regionale che prescrive la presenza dei centri di culto solo nelle periferie. Stiamo cercando un luogo in centro rinuncibile con facilità da tutti, anche da chi arriva a piedi poiché con tutti i bengalesi dispongono di un'auto, continuano alla comunità asiatica. Alcuni di noi frequentano il centro di via Calnova, gestito dagli ediziani, ma non comprendono bene la loro lingua. Non sempre sono in grado di capire quando viene detto durante i momenti di preghiera. Pur essendo tutti musulmani abbiamo lingue e modi di pregare diversi, come accade per i cristiani. Per questo abbiamo sentito la necessità di avere uno spazio nostro. E il centro sandonatese potrebbe fungere dal luogo di ritrovo anche per la comunità bengalese di Jesolo, dopo il dettivo fallito in primavera di creare un analogo centro a due passi dalla movida del litorale che aveva innescato un braccio di ferro con l'amministrazione Zoggia. Stiamo cercando di creare un centro culturale per unire tutte le famiglie e che ogni tanto possa essere adibito anche alla preghiera. Hanno concluso. E torniamo adesso a Portogruaro, si terrà questo fine settimana, oramai tradizionale l'appuntamento con la manifestazione Open Sport. Sabato 17 e domenica 18 settembre il centro storico di Portogruaro sarà teatro di esibizioni, dimostrazioni e saggi di moltissime associazioni sportive del territorio. Sarà dunque un'occasione per il tessuto sportivo portogruarese di mostrarsi in luoghi differenti a quelli solitamente deputati alla pratica sportiva e di proporsi ad un pubblico più vasto, non solo attreti ed appassionati. Le dimostrazioni si svolgeranno in Piazza della Repubblica, in Piazzetta Duomo, in Piazzetta Pescheria e nel Parco della Pace. È una vera e propria festa dello sport. Dimostrazione questa dell'importanza della pratica sportiva nel territorio portogruarese. Un prestigioso ed esclusivo appuntamento sarà quello con una delegazione della squadra di basket di Serie A, Umana Reier, che si terrà in Piazza della Repubblica domenica 18 alle ore 11. Sempre domenica mattina si svolgerà l'iniziativa a piedi tra i portici e le torri, la settembrina apre l'anno scolastico. Manifestazione podistica non competitiva, a passo libero, aperta a tutti, con un percorso dai 4 ai 21 chilometri, a circuito ripetibile, organizzata dal Liceo Ginnasio Statale con la sezione scientifica 25 aprile di Portogruaro. Il ritrovo e le iscrizioni sono previste alle ore 8.15 e si concluderanno alle 9.15, poco prima della partenza, presso Piazza Marconi. Andiamo adesso con il prossimo servizio a moto di vivenza. Marco Bertolini dice ricavato della corsa dedicata alla Via di Natale. Vediamo. Ci troviamo con Marco Bertolini, presidente dell'Atletica Montense. Oggi seconda corsa podistica a Visina. Sì, è la seconda corsa podistica a Visina. L'anno scorso abbiamo fatto una staffetta, quest'anno una corsa e abbiamo raccolto l'invito dell'ANA e dell'Associazione degli Alpini di collaborare per donare il ricavato alla Via di Natale in modo di dare un segno di beneficenza a qualcuno che ne ha bisogno. Noi abbiamo accolto molto volentieri questo invito. Sarà un percorso lungo la città? Sarà un percorso parzialmente cittadino. Si svolgerà lungo le vie del San Giovanni, in parte su asfalto, in parte sullo sterrato che ci porterà a vedere un po' la zona di San Giovanni che con le altre corse non frequentiamo mai. Abbiamo cambiato il percorso per valorizzare un po' questa frazione. La vostra corsa podistica è anche in combinazione con la 25esima pedalata della solidità? Sì, esatto. Anzi, è stato un loro invito a dire uniamo queste forze per raccogliere fondi e quindi è la pedalata della solidità, è il 25esimo edizione. So che fino all'anno scorso veniva fatta il domenica, quest'anno per poter incontrare i due gruppi l'abbiamo fatta di sabato e noi siamo molto contenti di aver dato questo supporto per questo scopo. E ora la rassegna fotoreporta e scatti dal territorio a cura di Vinicio Scortegagna. Bene gentili telespettatori, era questo l'ultimo servizio per quanto riguarda l'informazione del Veneto orientale. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alle prossime edizioni del telegiornale.